Buon pomeriggio e ben ritrovati a Cisto Dentro Live, il nostro appuntamento settimanale, lo sapete ogni giovedì con noi un esperto per parlare, per avere strumenti, per avere qualche dritta su come affrontare al meglio questo periodo così particolare, così strano, così diverso. Oggi parliamo di sport, lo facciamo con una persona che lo sport lo ama per davvero, campione di palavolo, ma soprattutto uomo che promuove lo sport in modo giocoso e credo che sia questa la sua caratteristica più grande, ma non solo, è anche autore di una serie animata che poi conosceremo, ha vinto anche degli importanti premi proprio per i valori che sa trasmettere. Diami le benvenute ad Andrea Lucchetta. Ciao Andrea! Carissimo, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Anche a te ti vedo in forma smagliante, come sempre. Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi soprattutto sorridente, perché la squadra del Torriso deve comunque cercare di far sorridere anche a distanza tutti coloro che devono percepire la tua positività, non perché siamo positivi al Covid-19, ma perché siamo positivi in quanto interpretiamo al meglio quelle che sono le indicazioni che ci vengono date, fermo restando che recupereremo, secondo me, tantissimo, perché abbiamo aumentato la voglia di stare e di condividere con i nostri figli, per chi ha avuto la fortuna di averli, magari lasciando i nonni a distanza, ed è questa probabilmente la grande mancanza che magari i nipotini hanno avuto in questo periodo. Oggi con te cercheremo di capire come rimetterci in moto correttamente, cioè senza strafare in casa, in giardino, al parco, in pista. Secondo te, dopo tutte queste settimane rinchiusi in casa, da dove bisogna ripartire? Qual è il modo migliore appunto per tornare a pensare al proprio corpo? Allora, ti devo però riportare un attimo indietro. Chi si è fermato in questo periodo ha commesso un gravissimo errore, anche perché all'interno di piccole stanze, piccoli luoghi, con piccoli strumenti che possono essere patate, limoni, mestoli, scolapasta, cuscini dei divani, si possono costruire palle, palline, pallette, cercare comunque di giocare, divertirsi, per rimanere in movimento. Quindi spero, spero che tutti quanti abbiano cercato di mantenersi almeno in un'attività motoria, sempre ludica, in grado di poter ora, finalmente, grazie anche alla via Tana Liberi Tutti, nel senso che hanno aperto l'opportunità di andare all'esterno. Quindi all'esterno dobbiamo innanzitutto portarci da bere, quindi abbiamo la nostra borraccia, abbiamo la nostra mascherina, obbligatoria, dobbiamo avere comunque i guanti per cercare, ovviamente di non avere nessun tipo di contatto, però l'integrazione è molto importante perché ci avviciniamo a un momento particolare della stagione in cui gli raffreddori possono essere tranquillamente inseriti anche a un contesto in cui arrivano delle botte di calore e quindi devo sicuramente integrarmi bevendo dell'acqua. Poi, giustamente, la prima cosa da fare è che cos'è? Correre. Per chi ha la fortuna di avere due gambe, oppure per chi ha la fortuna di avere magari un handbike, oppure la fortuna di avere l'opportunità di condividere a qualsiasi tipo di luogo, penso che la cosa più bella sia correre, perché non si parla di atletica leggera strutturata, ma si può avere il proprio corpo e avere la possibilità magari anche a piedi nudi, con le calze diciamo, sull'erba, per aumentare quell'aspetto di propria accettività, quindi dare anche al piede l'opportunità di poter vivere queste sensazioni all'aperto. Insomma, già queste sono ottime indicazioni. Poi c'è sempre questa differenza tra il gioco e lo sport. Secondo te, per bambine e bambini, lo sport deve essere un gioco o sono due cose diverse? Assolutamente. Sono in questa fase, la fase più importante per me, rappresenta la fase dai 3 ai 6 anni, proiettati verso dai 7 ai 12 anni, in cui il gioco deve essere un'attività sportiva, multisportiva possibilmente, anche perché come Lucky, ovviamente il mio cartone animato insegna dentro lo Spike Team, ci possono essere 50 sport diversi da procurre, perché ogni singolo frammento di uno sport, ogni singolo frammento è un pezzo di puzzle che costruisce la personalità di questo bambino, che essendo molto curioso, si trova dall'altra parte un personaggio molto trasversale, sorridente, che anima in lui la curiosità, ecco che riusciamo a portarli verso la capacità di esplorare. Il gioco quindi dà al bambino l'opportunità di chiedere gli strumenti per migliorare la sua capacità di giocare. Quindi siamo noi che dobbiamo fare un piccolo passo indietro, guardare bene quali sono le situazioni da proporre ai bambini, non fare in modo che la loro creatività e soprattutto l'autostima venga schiacciata, ma essere di supporto alla loro voglia di esplorare il mondo, il mondo del gioco sportivo. Tu sei un giocatore di palavolo, quello è il tuo sport. Ci puoi far vedere, no in questo momento, perché anche tu sei chiuso in casa, però ci puoi raccontare qualche piccolo esercizio dove appunto lo sport e la palavolo si incrociano. Ho visto in queste settimane, tu hai pubblicato anche sui social, piccoli esercizi da fare anche nel cortile di casa, se non addirittura dentro casa, per comunque giocare a pallavolo. Faccio un esempio per capire appunto come sport e gioco spesso facciano un grande abbraccio tra di loro. Allora, indiscutibilmente, avendo creato la figura dello smart coach, invece Lucky è uno smart coach che deve essere molto smart nel trovare attorno a sé degli strumenti per far giocare e divertire. Ho cancellato la pallavolo al di sotto di 12 anni, si gioca a spike ball, il gioco della schiacciata, in un concetto in cui il volo S3 ha tre S molto importanti, sostenibilità, sorriso, scuola, poi ne ho declinate altre tante, però la cosa più importante qual è? Avere l'opportunità di magari avere una palla. Per la giornata mondiale del rispetto della terra, dei 20 e 20, mi sono inventato, ho raccolto dei pezzi di legno praticamente all'interno del mio giardino, li ho messi formando un piccolo pupazzo e poi con un pezzo di legno più grande ho utilizzato, ovviamente, il mio bimbo e l'ho fatto così perché è uno schiacciatore che vuole schiacciare la noia, giocava tranquillamente a divertirsi, a buttare giù la montagna del legno. Quindi in questo modo io posso già avere l'abilità di andare a comporre in equilibrio creatività. Seconda cosa è distanziarmi, prendere bene la mira e poi giocare una sorta di tipologia di bocce in cui utilizzo proprio pezzi della natura. Lo spike ball, per esempio, è se hai una palla l'opportunità è proprio quella di iniziare a lanciarla e a bloccarla e poi magari lo puoi anche giocare solo con una sottile corda o delle spighette o un nastro tra due alberi. Poi prendere anche un cancello, per esempio. Lo spike ball che cos'è? È un gioco con i piedi a terra in cui la rete viene messa all'altezza degli occhi. Quindi la riproduzione per qualsiasi tipo di bambino, con il genitore, per esempio, può essere di andare a mettere all'altezza degli occhi del bambino, il genitore può essere anche messo in ginocchio. A me spesso succede, mi metto in ginocchio per giocare con i bambini delle scuole primarie perché almeno guardo i bambini negli occhi e si alziano le distanze. Quindi bloccando la palla e arrivando direttamente ad attaccarla, a dargli un colpo, innesco un gioco che crea quella capacità di essere un po' agonistico su cui poter eventualmente avere il ritmo per non avere l'ostacolo della rete e l'ostacolo del salto che la pallavolo per i ragazzi più grandi invece considera magari il percorso per coronare il sogno di diventare demulare magari come un gran bel giocatore il pallavolo sa, nella maschile o nella femminile. Andrea, stavo pensando adesso alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che fanno giochi di squadra. La pallavolo, ma penso al calcio, il basket, il rugby, la pallavolo. Soprattutto questi sport saranno quelli che forse più tardi si potranno ricominciare. Stiamo aspettando anche quelle che saranno le indicazioni. Questa non è una bella notizia per chi è appassionato di queste discipline. C'è un consiglio che vuoi dare? Può essere un'opportunità mettere per un attimo in pausa il proprio sport preferito magari per sperimentare altro? Assolutamente. nella propria identità di smart coach la proposta che faccio e che continuo a fare è proprio di utilizzare qualsiasi tipo di strumento per evadere dalla noia del ritmo e delle ripetizioni tipiche di un modo di incananare e di allenare dei bambini che per la fin fine si annoiano. A maggior ragione delle situazioni ovviamente di chiusura o clausura ecco che magari il gioco non so se ti ricordi anche nelle sale giochi e noi giocavamo è presente quel gioco dove tu hai una sorta di piccoli sussidi e fai giocare e fai scivolare dei dischi? Bene. Con una pallina fatta di carta dentro casa abbiamo giocato proprio anticipando quel colpo perché facendo scivolare la pallina sotto una rete anticipo e guarda un po' imparo questo movimento che sono riportato posso anche giocarlo con la mano aperta o con una pallina da tennis per esempio oppure posso giocare magari con supporto a badminton o a beach tennis l'anticipazione poi un domani mi porta a comporre l'eventuale bagger per cui avrò già un coinvolgimento con due sport diversi che mi danno l'opportunità come ho fatto dentro Spaghetti nella prima serie di utilizzare il beach tennis e tutta una serie di altri giochi per implementare la voglia di esplorare quindi la risposta è sì divertiamoci all'esterno poi ovvio se io mi voglio divertire ho anche un albero oppure trovo un muro e ho la fortuna di avere una palla mi divertirò magari a colpire a centrare quel muro oppure a colpire quell'albero se lo colpisco lanciandolo se lo colpisco palezzandolo se lo colpisco schiacciandolo qual è il problema? mi posso sempre divertire quindi so questa è anche l'opportunità per cambiare un po' le regole così come le si conoscono per appunto rendere i giochi giocabili anche in questo momento perché le regole vanno rispettate quando si fa uno sport però è anche bello inventarsi nuove regole appunto per provare a giocare lo stesso gioco in modi diversi come insomma tu stesso ci stai ci stai dicendo c'è libertà di creatività nel gioco è importante normalmente l'allenatore chiamiamolo che non ha le vedute ampie cerca invece di andare a chiudere i paraocchi incalanare i ragazzi verso un'attività che lui percepisce come funzionale ad imparare i fondamentali invece è fondamentale esplodere la creatività del bimbo faccio un esempio banale se io mi trovo dentro al parco e mi porto il mio pallone riesco comunque ad avere delle salviettine per magari igienizzarlo ho i miei guanti ho la possibilità di giocare l'uno contro uno con anche un mio compagno perché questo tipo di filo che ti dicevo dello spike ball separa separa i due giocatori l'abilità è quella di andare a prendere il pallone dopo un rimbalzo o prendere il volo avvicinarsi alla rete mentre il giocatore si avvicina alla rete l'altro cosa fa si deve distanziare dalla rete per poterlo poi bloccare come un portiere di calcio la stessa identica cosa la possiamo fare nel due contro due quindi cosa vuol dire vuol dire che io posso addirittura andare con una piccola fettuccina a creare una zona di separazione e quindi avere i due bimbi che giocano contro altri due bimbi che mantengono le distanze perché ho un metro alla mia destra un metro alla mia sinistra c'ho il compagno un metro e mezzo dalla rete ecco che lo spike ball e tra le cose è arrivata adesso probabilmente una notizia in questi giorni che sembra che addirittura il beach ball sia la prima attività chiamiamola sportiva e quindi la proposta che faremo per iniziare adesso ad allenare tutti i ragazzi che arriveranno forse a settembre magari a non trovare più le palestre agibili perché il problema degli sport di squadra è la sanificazione degli ambienti perché se arriva anche una classe sperando che poi i bambini vanno ovviamente a scuola noi avremo le palestre scolastiche che devono essere sanificate ogni ora poi nel pomeriggio arrivano le società sportive per cui devi sanificare gli ambienti è veramente un modello che cambierà quindi ora andiamo all'aperto ci giochiamo quest'estate e apriamo gli orizzonti assolutamente sport all'aria aperta Andrea lo hai citato più volte questo spike team il tuo cartone animato la serie che hai ideato proprio per far vedere lo sport ma non solo infatti hai vinto dei premi importanti per esempio due premi Moïge per l'inclusione e i valori che hai saputo trasmettere inclusione e valori perché lo sport è una via privilegiata per trasmettere concetti così essenziali ma perché lo sport è salute stare in movimento dà la possibilità comunque a tutti di cercare di migliorare le proprie prestazioni quindi dare ossigeno al cervello ed essere in grado di poter poi creare opportunità di socializzazione importanti anche nello sport individuale avere la concezione di appartenere a una squadra di persone che ti stanno dando una mano che ti preparano per darti gli strumenti su cui cercare di poter crescere e da crescere la voglia di raggiungere obiettivi ho utilizzato il linguaggio dei cartoni animati perché perché attacco direttamente attraverso il lachi attraverso questo cartone la televisione quindi le mamme i bambini i nonni tutti insieme con i fratelli riescono a percepire come una sorta di team building per bambini quanto sia importante accendere lo spirito di squadra che deriva da uno spirito individuale che alberga dentro ognuno di noi e quindi far capire ai bambini che posso crescere spiritualmente contando sulla forza il coraggio la lealtà l'acquilibrio il sacrificio la tenacia con l'umiltà di un allenatore che deve essere un umile animatore si anima in questo la voglia di esplorare quindi lo sport ti dà l'opportunità di essere resiliente di essere resistente di poter comunque riuscire a capire a percepire come donarsi nel confronto del compagno e la pallavola in questo e quindi nello spikeball lo è ancora di più perché sai benissimo che io devo imparare a gestire quel pallone per potermene spossessare per aiutare il compagno per migliorare quella catena che ci porterà tutti insieme a gioire di quel risultato il risultato è importantissimo ha dato l'opportunità anche di percepire come lo stesso gesto atletico può essere utilizzato da un atleta e da ovviamente un paratleta portare un esempio come il sogno di Brent in cui un ragazzo ha avuto un'amputazione bilaterale perché lui aveva tutte le protezioni ma quattro ragazzi ubriachi l'hanno tirato sotto causando un'amputazione bilaterale e grazie all'insegnante di educazione fisica ha scoperto il wheelchair basket grazie alla sua capacità ha smontato la moto creando le lame e per qualificarsi ovviamente a questi campionati paralimpici studenteschi e ha scoperto l'handbike come veicolo per ritornare ad essere il ragazzo più veloce sulle ruote quindi aver avuto anche l'opportunità di partecipare alle olimpiadi e alle paralimpiadi mi ha dato questo tipo di investitura voglio realmente far passare messaggi importanti per cui lo sport olimpico e paralimpico sia sullo stesso livello all'interno di spy team ho inserito addirittura delle pillole interessanti ho fatto percepire come una ragazza sorda può giocare con l'apparecchio coclare bilaterale può comunque leggere il linguaggio dei segni di lachi che la saluta dal pubblico e può tranquillamente anticipare delle traiettorie e quindi trasformare la sua disabilità silente in abilità perché è più abituata a leggere il linguaggio del corpo di un romo dotato questi messaggi ovviamente sono difficili da far percepire i bambini ma spero che piano piano riguardando ci siano degli adulti illuminati degli educatori illuminati in grado di poter aprire questo ventaglio di opportunità che lo sport riesce a dare Andrea l'ultima domanda la voglio fare direttamente al campione però nella risposta devi pensare sia alle bambine ai bambini alle ragazze ai ragazzi sia ai loro genitori quelli che sono in tribuno che sono a bordo campo durante le partite di fin anno è più importante vincere o è più importante perdere? allora sicuramente nella mia carriera ti posso garantire che sono state molte di più le partite perse rispetto a quelle vinte l'importante è che nella vittoria tu riesca a percepire la purezza del tuo percorso e capire anche che una volta che hai conseguito una vittoria che potrebbe essere anche un raggiungimento di un risultato devi imparare piano piano a classicamente classificare come l'innalzare l'asticella per cercare di esplorare nuove sfide e la sfida è proprio quella di percepire che se è arrivato a vincere bene hai presente che cosa succedeva in Indiana Jones nella prima serie quando Indiana Jones ha conseguito l'arca dell'eterna alleanza bene tutto un disastro di avvenimenti e dov'è finita l'arca dell'eterna alleanza? dentro il British Museum una delle casse etichettate ed è questo lo spirito con cui Andrea Lucchetta si è sempre posto vincevo una medaglia un campionato del mondo un campionato europeo lo andavo ad archiviare e aprivo delle nuove sfide quindi è importante che i genitori non riescono ad essere troppo ossessivi né tanto meno possessivi ma se loro hanno un possesso di qualcosa di storico e di interessante ebbene lo devono andare a declinare con il linguaggio dei bambini cercando ovviamente di come fa l'Aki di non ovviamente opprimerli indirizzarli ma fare in modo che siano i bambini a chiedere anche ai genitori di condividere magari anche insieme una bellissima partita a Spikewall con i loro nonni quando riprenderanno perché con la retta e l'altezza degli occhi con i genitori mentalmente in ginocchio l'altezza del bambino è sicuramente più avvincente come colpo d'attacco ringraziamo Andrea Lucchetta campione nello sport ma anche nella vita bellissime dritte bellissime indicazioni grazie davvero Andrea e ringraziamo tutti mi sono dimenticato di dire una cosa per chi ha fortuna attenzione è meglio che inizi anche a tirar fuori la bicicletta quindi senza togliare la catena ok tenete bene sotto pressione la pressione dei pneumatici caschetto in testa borraccia sempre piena e l'utilizzo della bicicletta come è stato anche annunciato ovviamente in tutte ovviamente le regioni beh darà una buona opportunità per allenarsi quindi allenare il sistema cardocircolatore ed essere molto più performanti in qualsiasi tipo di sport scusami se ti ho interrotto però mi ero dimenticato questo particolare molto importante è stato benissimo perché è la stagione insomma andiamo incontro alla stagione invitante per la bici quindi un modo bellissimo anche per visitare i nostri territori per riprendere confidenza con le zone vicino a noi che appunto in questi mesi abbiamo frequentato un po' di meno grazie Andrea grazie davvero grazie a tutti voi come sempre per essere stati in nostra compagnia ci sto dentro vi aspetto però tutti i giorni il nostro sito con tante indicazioni tanti suggerimenti appunto per stare ancora insieme grazie a tutti ciao